Il 21 ottobre scorso, Piazza San Pietro si è animata di una scolarisca. I ragazzi, gli studenti e i professori dell'Istituto Comprensivo Statale di Zagarolo, accompagnati da Sorra Angela Lucia, buongiorno, che lo state vedendo in questo momento alle nostre spalle, sono andati dal Papa a portargli un certo dono. Ma noi la prendiamo molto larga, guardate questa foto. C'è Tommaso in primo piano, c'è Sor Angela e poi questi ragazzi straordinari, i festanti che abbiamo chiesto stamattina di saltare la lezione e di venire qui da noi. Sor Angela, in mano, lo vediamo tutti, un libricino di poesie, Regaliamo un sorriso, dove c'è scritto molto chiaramente, questa è una goccia nell'oceano. Da sola questa goccia non riempie l'oceano, ma l'oceano senza questa goccia avrebbe molto, molto da lamentarsi. Sor Angela, delle poesie scritte in un libricino per raccontare la realtà che stiamo vivendo, per farla raccontare ai ragazzi e poi da regalare al Papa. Com'è nata questa iniziativa? È nata dalle riflessioni che facevamo in classe quasi tutti i giorni, quando i ragazzi venivano e si parlava del giorno precedente, delle immagini televisive, eccetera. Si commentavano, di conseguenza, io dicevo sempre, ma noi possiamo starcene con le mani in mano, possiamo fare qualcosa per loro? Cercavo di sensibilizzarli, in realtà sono stati eccezionali, perché hanno risposto con entusiasmo, vogliamo fare, già anni precedenti avevamo fatto qualcosa per la solidarietà, e questa volta era il mese di marzo, quindi eravamo molto in ritardo. Ho detto, non possiamo fare i laboratori, i lavoretti, che loro erano abituati. Non c'era tempo. Però dovevamo fare la poesia nel programma. Dico, allora sfruttiamo questo programma che stiamo facendo. Abbiamo cominciato a studiare la poesia in prima e in seconda, e quindi abbiamo cominciato a fare le similitudini, le metafore, i versi, e da cosa nasce cosa scriviamo poesie su quelle immagini che vediamo. E abbiamo visto i barconi, abbiamo visto, ho procurato anche, in classe si accendeva il computer, vedevamo delle immagini, e poi dicevo provate a esprimere queste emozioni, provate a esprimere che cosa vi dicono queste immagini. Tra l'altro Sor Angela, in un tempo in cui, diciamocelo chiaramente, la reazione a volte è violenta nei confronti di certe situazioni, stanno arrivando troppe persone, portiamoli a casa, che cosa ci vengono a fare questi qui, perché sono le frasi e le espressioni con cui purtroppo dobbiamo misurarci. Chiedere ai bambini di esprimere quello che hanno dentro è già qualcosa di molto impegnativo. Sor Angela, che cosa è uscito dal cuore di questi ragazzi? Sono uscite delle emozioni che io non mi aspettavo. Ogni giorno, quando loro scrivevano questi versi in classe o a casa, perché a volte si esercitavano a casa, a volte si faceva in classe l'esercitazione, sono venuti fuori delle emozioni, portate. Poi si cercava la rima, non sono poeti, però andavamo a cercare la rima, anche insieme ci aiutavamo, andavamo a cercare tramite internet qual era la rima adatta a quel tema. L'ho portati pure nel bosco, dopo che hanno visto delle immagini, ho detto adesso andiamo nel bosco, facciamo attività di gruppo, ognuno di voi esprime i sentimenti, le emozioni, e hanno scritto delle cose. Io, prima di sentire un po' questi ragazzi, chiedo aiuto al professor Daniele Fiorito. Buongiorno professor Fiorito, lei ha preso il posto di Sorangela Lucica, perché nel frattempo se neppure è andata in pensione, quindi lettere italiano aspetta a lei. Se vogliamo provare, tanto per far capire a casa di che cosa parliamo, noi siamo rimasti incantati, vi abbiamo pizzicato in piazza San Pietro, grazie a Giacomo Avanzi che dobbiamo ringraziare, e vi abbiamo chiesto davvero venite in studio, perché questa è un'esperienza unica. Possiamo chiederle, professore, di leggere una di queste poesie? Noi potremmo sceglierne tante, faccia lei. Certo, allora, leggiamo i barconi del nostro amico Tommaso. Di Tommaso. Sui barconi se ne stanno, con tanta paura se ne vanno. Uomini, donne e bambini sperano, accoglienza, vita e dignità pregano. L'immigrazione è una bomba che esplode, come un mondo che si corrode. Prima o poi fuggiremo tutti quanti, e per molti i dolori saranno tanti. L'odio e la guerra non continuerà, se la pace ognuno invocherà. Questo per farvi capire, posso fare un applauso? In realtà ne dovremmo fare uno per ognuna di queste poesie bellissime. E adesso, Sor Angela, io mi vado a pizzicare un po' di questi bambini, perché noi abbiamo sentito, questa è stata la proposta che vi hanno fatto gli insegnanti. Io comincerei da te, se chi ha il microfono, e intanto cominciamo da te, ci dici anche il nome. Giorgia. Giorgia, sta a sentire una cosa, come avete fatto a pensare le poesie? Allora, siccome con la professoressa Calandrello siamo rimasti molto... Sor Angela, questo lo diciamo, non ho detto il cognome, ma è Sor Angela Lucia, è Sor Angela Lucia per tutti. Siamo rimasti molto colpiti da quello che abbiamo visto comunque su internet, perché è una grande fonte. Sono venute poi fuori da sole, ogni emozione era pura, era nuda, quello che noi volevamo e esprimevamo. Posso chiederti una cosa, i temi vi li siete scelti voi, oppure avete fatto a sorteggio? Insomma, come avete deciso di creare su un tema piuttosto che su un altro? Allora, diciamo che la professoressa ci ha fatto mostrare numerose volte immagini, magari dei bambini in Iraq, video, ci ha fatto fare dei lavori appunto in gruppo, come ha detto la professoressa, ci ha mandato al bosco. Ma sono attenti sti ragazzi, ma sono veramente attenti, non si sono persi una parola. E ci ha fatto fare un lavoro alla lavagna, abbiamo messo molte parole alla lavagna, alcune belle ma alcune brutte. Da queste parole poi abbiamo ricavato queste poesie. Che sono veramente bellissime. Le prime esercizazioni che facevano con la poesia, queste sono i bambini di prima l'anno scorso. Infatti questa è anche, adesso sono passati chiaramente di una classe, ma è un'esperienza che poi gli è rimasta, è un'esperienza che tra l'altro vi consente anche di svolgere il programma, perché poi sempre di italiano si parla. Sor Angela, dai loro interventi si capisce la passione che ci hanno messo nello scrivere. Sono venute fuori anche emozioni negative, sono venute fuori delle preoccupazioni dei ragazzi. Paura, paura, spesso anche nelle loro poesie la paura di affrontare queste dinamiche violente che un po' in giro ci sono. Però abbiamo sostenuto queste loro paure con la forza della volontà, della solidarietà, dello stare insieme, dell'aiuto reciproco. Abbiamo pure trasmesso dei filmini da Youtube dove si vedevano come i gesti di solidarietà si moltiplicano ad onda. Quindi dalle parole di paura ai fatti concreti di solidarietà. Sì, sì. Chi tra questi ragazzi, posso chiedervi ragazzi, chi di voi per esempio avrebbe messo l'accento proprio sulla paura? Chi è che tra di voi avrebbe messo, avrebbe posto attenzione sul fatto della paura di questi arrivi, la paura della guerra? Chi è? Abbiamo detto, tu sei Marco mi pare. No, Claudio. Claudio, avevi un nome stretto, perdonami. Claudio, fammi capire un pochettino perché tu avresti messo, tra l'altro hai fatto una poesia bellissima, ma comunque, che ci porta sui barconi proprio. Ho pensato a quello che... Claudio, sei partito dalle foto, queste foto che stiamo vedendo. Sì. Bravo. E questa è una cosa importante. E tu hai visto negli occhi di queste persone la paura, vero? E ho scritto la poesia, guardando questi video, pensando e qualche volta mi sono chiesto perché non le possiamo aiutare. Bravo. E mi è venuto questo mare in tempesta per la loro disperazione. Prof, vogliamo fare una cosa? Mare in tempesta, la professoressa Marta Pompili, la professoressa di arte, mi pare che sia pagina 8-9, non mi ricordo? Sì. Allora, professoressa, lei è microfonata quindi non ha bisogno del gelato, come hanno imparato i nostri ragazzi. Leggiamola. Se c'è guerra, c'è povertà e tutti fuggono per la libertà. Se la guerra arriverà, la famiglia non si salverà. La guerra è un mare in tempesta, purtroppo, nessuno salvo resta. Posso chiederti una cosa? Intanto ce ne andiamo un attimo in Piazza San Pietro dove ci aspetta Giacomo. E poi ti devo chiedere se adesso hai meno paura. Preparati la risposta. Andiamoci in Piazza San Pietro, Giacomo. Storie. Io torno a Claudio. Claudio, siamo partiti dalla paura. Tu hai una storia bellissima, perché qui hai trovato un papà e una mamma straordinari. Sì. E un po' di paura ce l'hai avuta pure tu. Lo possiamo dire, so che ne parli, per cui non sto facendo nessun tipo di violenza a fartelo raccontare. Ma adesso come si fa a non avere paura? Te lo posso chiedere. Adesso io ho un po' paura, ce l'ho. Ma sta passando ogni tanto, perché da quello che mi raccontano i miei genitori, io ogni volta che loro mi raccontano come stanno bene questi ragazzini, dopo essere stati salvati da persone come loro, io mi tranquillizzo un po' di più. Altro che gesti concreti. Professoressa Pompili, voi avete un compito non facile. E' uno perché dovete raccogliere l'eredità che vi ha lasciato Sor Angela Lucia, che continua questa avventura straordinaria con i bambini disabili a qualche chilometro di distanza. Ma poi perché adesso la scuola non deve soltanto preparare i ragazzi al futuro, ma deve dare loro anche gli strumenti per poter leggere questa realtà che non è facile. Quando vi trovate a dare conforto a questi ragazzi, quando vi dicono che hanno paura? Ma voi come glielo spiegate il mondo come sta andando in questo momento? Spesso ci troviamo a fare da genitori, in classe, nell'ambiente scolastico. Proviamo a valorizzare quello che hanno e a cercare di non fargli avere paura. Nello stesso tempo, come tutti i loro genitori, ci prodichiamo affinché loro possano sfruttare al meglio le loro risorse, le loro capacità. Su questo ci battiamo molto. E queste risorse diventano anche concrete, perché voi non contenti di scrivere poesie bellissime, non contenti di stampare a spese vostre questo libricino che è veramente, lo faccio vedere, forse ce l'abbiamo già in grafica, ma è tra l'altro davvero piacevole a leggersi, questo lo dico, perché anche chi non è amante della poesia, qui trova ristoro. Ma avete fatto un salto interiore? Sor Angela, avete detto che questo deve diventare uno strumento di carità. E che vi siete inventati? Ci siamo inventati che i ragazzi sostenuti anche dai genitori, perché ho chiamato loro i genitori, che hanno sostenuto moltissimo, hanno condiviso queste iniziative, pur di aiutarla a sensibilizzare, a conquistare questi valori. Perché i genitori collaborano quando noi nel mondo e nella scuola li coinvolgiamo. E per cui si sono interessati, abbiamo pensato di stamparne, abbiamo provato a stamparne 50 copie per vedere come andava. E loro si sono entusiasmati, hanno avuto i permessi di vendere le porta a porta. Cioè, l'hanno preso, ognuno prendeva 10, 15 e le andavano a vendere. Vogliamo dire quanto avete raccolto, che è una cifra fortissima. Abbiamo raccolto? 500 euro. 500 euro, e mica se li sono tenuti per loro per fare altre cose, attenzione. Lo facciamo dire allora, chi vuole parlare? Tu, forza, questi 500 euro, mi ricordi il tuo nome, ti chiedo perdono. Tu, come ti chiami? Gelato, bravo. Lui l'anno scorso. Lui c'era però. Io mi chiamo Alessio. Alessio, avete preso in busta, avete preso una busta, avete messo questi soldini e avete detto che cosa? Cosa avete deciso di fare con questi soldi? Di darli a bambini dell'Iraq. Oh, poi avete detto, avete identificato un paese. Sì. Anche perché, Sor Angela, certe realtà le conosce bene, avendo avuto una vita di missione africana. Però avete anche detto, mica li possiamo dare così a caso. Sor Angela, che avete fatto? Ma inizialmente io allora ho detto, se raccogliamo dei soldi li mandiamo ai bambini dell'Iraq, perché avevamo visto queste immagini terribili che ci avevano sconvolte. Mandiamo la nostra goccia di solidarietà. Come facciamo? Dico, non lo so, io un riferimento diretto non ce l'ho. Cercheremo tramite la Caritas locale. I loro visi si sono un po' rabbuiati. Io ho sospeso là e ho detto, vabbè poi ci penseremo. Vediamo come va. Un secondo me, professore, ma a chi li mandiamo i soldi? Come ci li mandiamo? Li diamo al Papa, ho detto. E loro, un entusiasmo, un applauso. A quel punto ho detto, qua la cosa bisogna andare fino in fondo. E certo, non bisogna lasciarla cadere. Adesso bisogna vedere come fare ad arrivare a San Pietro. Si chiudeva intanto l'anno scolastico. Loro hanno venduto queste copie. Dico, dobbiamo arrivare a 500 euro, ragazzi, il minimo. Se noi che portiamo al Papa. Effettivamente siamo arrivati a quella cifra. Perché quindi, in tutto è stato a 1000 euro. Con 500 avete pagato questi debitucci che si erano stati fatti per poter stampare. 500 euro pulite e pulite sono state messe in busta chiusa. E qua veniamo a quel giorno a Piazza San Pietro. Perché voi, con una grande sfrontatezza, vi siete armati di coraggio, avete deciso di andare in Piazza San Pietro. E lì, chiamo in ballo, tiro in ballo il nostro Tommaso. Tommaso, andiamo un attimo in pubblicità. Attenzione. E poi quell'incontro, guardate, occhi negli occhi con Papa Francesco, ce lo dovete raccontare. Pubblicità. Intanto vi applauso stesso io perché siete bravissimi. Emozionato. Bentornati, bentornati in studio con l'Istituto Compressivo Statale Zagarolo. Il 21 di ottobre, vedete questa foto alle nostre spalle, un incontro speciale con Papa Francesco. C'erano Tommaso e c'era sua argela Lucia Calandriello, che è la factotum, se volete, l'idiatrice di questa iniziativa, scrivere delle poesie e regalare il libro al Papa. È un'offerta. Tommaso è qui. Lo vediamo. Tommaso, il cuore ti batteva mille. Quando è arrivato Papa Francesco, raccontaci tutto. Fai il cronista. Io sono stato sorteggiato. Sinceramente non me l'aspettavo. Poi quando sono arrivato là, proprio vicino a Papa, e l'ho visto da vicino, io ero da tanto che ci volevo andare all'udienza. Poi vederlo da vicino è stata un'emozione grandissima. Senti, Tommaso, tutte le foto, a parte che ti ha messo la mano sul capo, la sua benedizione l'hai avuto, guardate, mano nella mano, con sua argela Lucia. Di un po', il cuore ti impazziva in quel momento. Sì, io quando sono uscito nemmeno mi ricordavo niente. Eh, te ti credo. No, beh, ma è bellissimo. Cioè, noi parliamo di cose, ma vi rendete conto stare vicino al Papa? È un'emozione grandissima. E tu gli hai pure spiegato che cosa ti ha detto lui. Mi ha detto chi l'ha fatto questo libricino, io gli ho detto noi della classe insieme a un'altra classe. Poi gli ho fatto vedere le poesie mie e mi ha detto che le leggerà tutte. E guardate, Papa Francesco promette, promette quello, cioè quello che promette e mantiene. Quindi state tranquilli che lo ha fatto davvero. Quando, Sor Angela, c'è stato questo gesto concreto, lei gli ha dato proprio la busta. La busta gliel'ha consegnato Tommaso. Che cosa ha fatto Papa Francesco Tommaso? Ha capito che c'erano dei soldini probabilmente dentro? Sì. Ha capito che c'era il frutto dei vostri sacrifici lì dentro? Io ho detto che questa era la busta in cui c'erano 500 euro che era data lì ai bambini dell'Iraq. E guardate, si vede proprio in questo momento la busta. L'avete fatto davanti a tutti e veramente avete portato avanti questa iniziativa. E Papa Francesco Tommaso, che ti ha detto? Ma... È rimasto un po' sorpreso, di la verità, eh? Beh, sei stato un cronista, lo assumiamo. Che tanto bisognerà fare il cambio generazionale. Bravo Tommaso. Sor Angela, questa idea del sorteggio vi piace tanto? Perché qui c'è da mettere d'accordo due classi. Le vogliamo citare anche le sezioni e le classi? Allora era la prima C e la seconda E. Che adesso chiaramente sono seconda e terza E. Benissimo. Sorteggiarono perché lì c'era tutti in piazza, perché ci siete andati tutti. Però c'era naturalmente da assicurare che qualcuno portasse qui. Avevamo solo due posti a disposizione. E quindi Tommaso l'ha fatto. Allora, Papa Francesco è arrivato. Io chiedo solo al volo, intanto, occhi puntati su Papa Francesco. Voglio sentire Sofì e Conni, giusto per chiudere. Senti Sofì, questa esperienza per te, che cosa ti ha portato dentro? Ti ha cambiato un po' questo impegno che voi avete messo in tutta questa iniziativa? Sì, avevo tanta emozione. E' stata un'esperienza bellissima. La rifareste? Sì. Conni, passo a te il gelato, come si vuol dire in gioco, vi ho insegnato. Ma voi riproponete, insomma, Sor Angela Lucia e altrove adesso. Ma avete degli insegnanti forti che vi vogliono persone adulte quando uscirete da questa classe. Voi continuerete questo impegno. Insomma, nella testolina siete un po' cambiati voi. Sì, perché questo progetto ci ha servito a capire che cosa stava succedendo nel mondo e queste poesie ci hanno molto colpito. Allora, io vi dico una sola cosa. Vi chiedo umilmente le vostre firme ad ognuna delle vostre poesie che tanto quando farete strada io potrei dire che tanto tempo prima c'ero stata. Devo ringraziare di cuore Sor Angela Lucia Calandrello. Devo ringraziare il professor Daniele Fiorito, la professoressa Marta Pompili, in rappresentanza di tutto l'Istituto Comprensivo Statale Zagarolo e dirvi grazie per averci fatto compagnia questa mattina. C'è Papa Francesco, noi torniamo, se volete, dopo l'udienza. Grazie di essere stati con noi. Grazie, grazie, grazie.